Bella a tutti ragazzi Ma bella a tutti ragazzi Eccoci qui in un altro video Ho cambiato Vediamo se questo qua vi piace di più di quello di prima Allora ragazzi Oggi siamo in questo nuovo splendido video Cosa farò oggi? Come avete ratto l'occhio? Farò vedere i miei My Stars Iniziamo dal primo My Stars Magnetici Iniziamo dal primo Gigi Buffon Fortiere della Juventus Ve li farò vedere tre volte Così voi capite bene Buffon Fortiere della Juventus Molto forte Lo mettiamo qui Li mettiamo tutti qui Pocchante quaderni Strutman Centrocampista della Roma Lo andiamo a mettere Forte anche lui Lo andiamo a mettere qui Prossimo Paul Pogba Della Juventus Centrocampista Lo andiamo a spostare di qui Arturo Vidal Centrocampista Ex centrocampista Della Juventus Lo andiamo a mettere qui Gervinho Attaccante della Roma Con la palla Pallina Andiamo a mettere qui E rimane solo Ranocchia Difensore Dell'Inter Ok Ricominciamo Buffon Buffon Portiere Buffon Lo dico due volte Anzi Strutman Mitico Paul Pogba Arturo Vidal Cervinho 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 Ranocchia Ranocchia Ragazzi Questi sono tutti i miei Mestars Questi erano tutti i miei Mestars Me ne manca uno Che ho perso Ma fa niente ragazzi Ora vi dirò chi è E' Jeremy Menens E anche Hernanes Non li trovo più Due me ne mancano E comunque ragazzi Il video spero che vi piaccia Arriviamo a un like Per il prossimo episodio Arriviamo a un like Ragazzi Commentate Iscrivetevi Io sono Vittor E oggi avete visto I miei Mestars Commentate Iscrivetevi Lasciate un like Bene ragazzi